Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Caroline Smith, coreografa e giudice di Ballando con le stelle, ha deciso di smentire le false notizie riguardanti il suo presunto ricovero ospedaliero. Stanca delle fake news diffuse dai media sulla sua malattia, Caroline ha chiarito la sua reale condizione di salute attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. La ballerina, che affronta un percorso oncologico dal 2015, ha voluto rassicurare i suoi fan spiegando che non è ricoverata, ma semplicemente segue un trattamento di Day Hospital. Nel video, Caroline ha dichiarato, buongiorno a tutti. Ieri ho fatto il mio percorso oncologico. Sto bene, per quanto si possa stare bene dopo un giorno così. Vado avanti sempre con il sorriso. Non è una passeggiata e mi piacerebbe fare una pausa, però sto bene. Ho visto un altro articolo che crea allarmismo dicendo che sono ricoverata. Io vi dico sempre la verità. Ogni tre settimane, fino a quando sarò in vita, devo sottopormi alle cure. Se dovesse andare male, ve lo dirò io di persona. Nella didascalia del video, Caroline ha fornito ulteriori dettagli sul motivo del suo intervento, sottolineando che queste giornate fanno parte della sua routine. È da ottobre 2015 che faccio le cure. Sono quasi dieci anni e non ho mai smesso. Non è facile ed è stancante, ma amo la vita e vado avanti perché ho tanti progetti da realizzare e amo vivere. Come al solito, partono i vari articoli online che dicono che sono ricoverata in ospedale perché sto male. Se volete vedere o sentire la vera verità, la trovate qui come al solito. Vi racconto io. Buona giornata a tutti. Con queste parole, Caroline ha voluto ribadire il suo impegno a condividere personalmente aggiornamenti sulla sua salute, invitando i fan a fidarsi delle sue comunicazioni dirette.